Il nostro diritto di rappresentarvi all'interno delle istituzioni europee è stato leso. L'applicazione di una prassi per la distribuzione delle presidenze e delle vicepresidenze nelle commissioni per la prima volta è stato disatteso al solo scopo di togliere voce ad un intero gruppo politico che evidentemente non piace. Ma la democrazia non può essere solo per qualcuno, deve essere per tutti. Per questo motivo domani mattina il nostro gruppo Le FDD denuncerà l'accaduto con una conferenza stampa direttamente dalle istituzioni europee di Strasburgo. Seguiteci su questi social dalle 11.30 in poi e diffondete la notizia.